Allora, voi siete della classe? Tattà! Di quale scuola? Per il SEM! E allora, che cosa vi siete inventati? Avete fatto una lettera a chi? Al sindaco per i vecchi! Ecco, per quale motivo? Per me ricirco! Per il cerchio! Perché non volete che cosa? Che non volete che cosa? Ecco, sentiamo un po' questa letterina che dice? Signor sindaco Benedetti, le chiediamo gentilmente di sospendere tutti i circhi per l'attrattamento di animali, lo chiediamo per favore i circhi sono Royal Martini, Orfei, eccetera se lei può fare questo per noi, anzi per i nostri amici animali noi le daremo una ricompensa Ecco, ma come ti è venuto in mente questa iniziativa? Beh, allora, prima di tutto beh, tempo fa mi piaceva il circo quindi io non ho saputo questo sul computer e ho visto un video che ti ha messo un po' povero e mi ha convinto esatto e poi ne hai parlato con Ilaria Ilaria, tu che cosa hai visto? Io ho visto tipo un cavallo anzi più di un cavallo che stavano dentro delle stalle piccoline e non avevano spazio per girarsi e cose così e a voi questo dispiace però che gli animali sono sì ecco, non non cioè non pensate solo che è bello divertirsi a vedere questi animali che fanno queste io se avessi saputo quella cosa non ci sarei mai andata al circo addirittura adesso sicuramente giusto maestra che non ci possiamo incontrare la maestra per motivi di privacy allora sappiamo che il sindaco non può fare quello che gli chiedete però sarà sicuramente sensibilizzato a quello che voi gli avete detto e che so, magari viene a trovare e vi parla di questi circhi voi avete fatto un'iniziativa molto importante lo sapete? ne siete coscienti che siete il futuro dell'Italia giusto? sì e gli volete tanto bene agli animali sì voi pensate che con da morire che con questa letterina riuscirete ad ottenere qualcosa che è fatto? allora aspettate a me piacciono persino le lumache eh beh non piacciono allevano i boschi anche le bosche le lumache allevano io sono i gatti 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 va bene va bene allora seni mi fai un saluto al 3 1, 2, 3 ciao 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 Grazie.